Sì, buon pomeriggio. A cinque mesi dalla frana, completati in parte i 90 interventi di somma urgenza. Altre opere saranno realizzate tra maggio e giugno. La ricostruzione complessiva generale, il piano di ricostruzione, sarà presentato dalla Regione a luglio, mentre già sono state sbloccate le pratiche per ricostruire 70 edifici privati e diversi edifici pubblici danneggiati dal sisma di sei anni fa. La questione molto importante, e qui proprio perché ormai siamo entrati nella stagione turistica, il porto. Il porto è solo parzialmente riaperto, il porto di Casamicciola. E allora a federalberghi i titolari di attività produttive raccolgono firme e chiedono che il porto venga totalmente riaperto, cioè che si possa dare l'accesso ai traghetti o che si potenzino le corse degli aliscafi, perché davvero c'è bisogno che qui i turisti ritornano. Hanno riaperto Piazza Bagni, cominciano a riaprire anche negozi, hanno riaperto in parte gli alberghi qui a Casamicciola, ma insomma c'è sicuramente ancora lavoro da fare. Accanto a me il commissario prefettizio di Casamicciola Terme, situazione sfollati. Simonetta Calcaterra. La situazione sfollati nell'arco di questi cinque mesi è sensibilmente migliorata, perché siamo partiti da 1100 cittadini costretti a lasciare le loro case ai 150 che oggi sono ospitati in albergo. Quindi i lavori di messa in sicurezza, di rimozione dei fanghi, ha consentito nell'arco di questo tempo di far rientrare gran parte dei cittadini nelle proprie abitazioni. Diciamo anche che in settimana partono i lavori di pulizia degli alvi, ma è molto importante la presenza di un presidio, di un monitoraggio proprio qui al centro operativo comunale. Che cosa ha consentito questo presidio del territorio? Ha consentito di installare dei monitor che controllano i movimenti delle frane, che controllano il plurometro e quindi impediscono ai cittadini di dover fare quelle evacuazioni che in caso di allerta gialla e arancione finora abbiamo dovuto mettere in pratica. Quindi solo nel caso in cui questa strumentazione dovesse evidenziare il superamento di una soglia di rischio reale si dovrà ricorrere all'evacuazione. Altrimenti i presidianti che controllano questi dati lavorano per noi sul territorio durante il maltempo.